Alle amministrative hanno vinto tutti, anche gli sconfitti. A due giorni dall'esito dei cinque ballottaggi in Abruzzo è ora tempo delle analisi politiche. Il centrodestra ha vinto a Lanciano, il centrosinistra a Vasto, Francavilla e Sulmona, mentre Roseto è andata al polo civico guidato d'Azione. Risultati questi che potrebbero far barcollare addirittura la giunta regionale targata Marsilio. Il PD suona la fanfara. Il voto dimostra la richiesta di un'alternativa al governo della regione, ha dichiarato il segretario regionale Michele Fina. Ma Marsilio si difende. Quando sono stato eletto presidente non avevamo quei cinque comuni, ha detto il governatore. Adesso invece abbiamo anche Lanciano. Per il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, quello delle amministrative non è un voto politico. È impensabile che l'attività della giunta possa avere riflessi positivi o negativi sulle elezioni amministrative. Il dato amministrativo è un dato poco politico, ma è un dato che si basa sulla bontà delle liste, sulla bontà del candidato sindaco. Quindi non c'è nessun tipo di riferimento. Vorrei riportare un po' sulla terra il Partito Democratico dicendo che non è il caso di cantare vittoria perché da un lato alcuni comuni al di sopra dei 15.000 abitanti sono stati vinti dal Partito Democratico o da liste civiche. Così come vorrei dire che nei comuni più piccoli, ad esempio nella provincia di Pescara, il Partito Democratico è uscito con le ossa rotte perché non ha vinto in nessuno degli 11 comuni dove si è votato. Quindi andiamo avanti con l'attività consigliare in regione, ben sapendo che oggi gli abruzzesi vogliono avere risposte sui tanti problemi che attanagliano questa regione. Da quando Marsilio governa il centrodestra perde sempre. Questo è il commento del deputato d'Italia Viva Camillo D'Alessandro che rivendica il ruolo di civici, centristi e liberali moderati nelle vittorie del centrosinistra. Da quando Marsilio è in regione il centrodestra perde. È successo nelle scorse elezioni amministrative a Chiediavezzano, adesso in tutti i comuni sopra 15.000 abitanti. Un Abruzzo che è veramente piegata in se stessa da quando Marsilio governa e che molti treni rischiano di passare inutilmente, soprattutto in questo straordinario momento del PNRR. E ora gli occhi dei partiti sono già puntati sulle prossime elezioni regionali, che dovrebbero tenersi a febbraio 2024 e Marsilio ha già annunciato che si ricandiderà. Per allora al centrodestra unito potrebbe contrapporsi un ampio fronte che comprenda PD, 5 Stelle, Italia Viva e Azione, ma c'è tempo per consolidare eventuali alleanze. Prima nel 2022 si rinnoverà il Consiglio Comunale dell'Aquila, di San Salvo, di Ortona e di molti altri comuni abruzzesi e nel 2023 sarà la volta di Pescara e Teramo. Testi importanti questi per sperimentare ed elaborare strategie e accordi in vista della campagna regionale. Un guai dare per scontato che siano percorsi naturali, cioè vincere alle comunali significa vincere alle regionali, non è così e per questo ci serve politica e non matematica che fa le addizioni. PD più 5 Stelle non basta.